Buongiorno a tutti, sono Sandro Tognazzi e vi vorrei spiegare il tampone che si può fare a casa. Si prende questo tampone, lo infila nel naso da una parte fino a più che si può in alto e poi lo si mette in una boccettina che c'è dentro un reagente. Poi si toglie e lo si mette in un altro reagente che stabilisce se hai il covid oppure no. E così dall'altra narice e poi si può fare anche quello in gola che è un po' la stessa procedura con un altro tipo di tampone. Lo si prende e così si vede un po' più sicuro che sia dal naso che dalla gola si riesce a stabilire un po' più preciso se va bene oppure no. Così vengono fatti a casa senza andare a fare le file in farmacia che fa anche freddo e bisogna stare lì un mucchio di tempo. Speriamo che tutto vada bene così. Vi saluto e arrivederci a presto.